Scusami, scusa, volevo chiederti una domanda. Mi dai il tuo numero? No, guarda. Mi dai un bacio? Neanche, è meglio un numero a stupunto. Allora è meglio il numero. Facciamo un numero. Come ti chiami? Elena. Io sono Adere Elena. Grazie. Molto piacere. Tranquilla, è solo un mal di gola. Questa serata. Ma che davvero? Qui Elena, tranquilla. Tranquilla Elena. Tranquilla. Fantastico. Fantastico Elena. Ti ringrazio. Niente. Tranquilla. Tranquilla Elena, tutto sotto. Tranquilla. Scusatemi, scusate, ma volevo chiederti una domanda. Mi dai un bacio? No. No, grazie. Sei sicura? Sicurissima. Pensaci. Ci ho pensato, sono sicura. Che direi? Mi dai un bacio? No. Sei sicura? Sì. Scusami. Scusami. Parli italiano? Un poco. Bene inglese. Ah, ok. Vedo te quando vengo. Sì. E... Sei molto bello. Grazie. Puoi mi dare il tuo numero? Ok. Sì. Chi ti sei? Svizzera. Svizzera? Sì. Mi chiamo Nader. Cheney, ciao. Madame, qui? Sì. Perfetto. grazie a tutti benvenuti buon giorno diciamo un po' di un minuto ok